Fede Abbiamo con noi stasera Angelo Bucci, architetto brasiliano Due cose su Angelo Angelo ha studiato alla facoltà di architettura di San Paolo Dove adesso tra l'altro è un professore e insegna E dal 2003 ha fondato SBTR, che è il suo studio Dove lavorano altre 5-6 persone, mi sembra E Angelo ha insegnato come visiting professor in moltissime università Negli Stati Uniti, MIT, Harvard Ed è già anche stato qua all'accademia con noi un paio di volte Come invitato anche quest'estate per il workshop del WISH Quindi non è una novità, un panorama svizzero Tra l'altro è qua con noi perché sta facendo un edificio, si può dire, a Lugano Ed è il motivo per cui siamo riusciti a contattarlo Questa sera ci parlerà sempre del nostro anche tema architettare tradizione E siamo molto contenti di avere proprio lui qua stasera Che in tutta la sua opera cerca comunque sempre di portare una ricerca strutturale Che quasi va al limite Ma al contempo c'è una poetica dello spazio Che stride quasi con la ricerca strutturale Tutta la sua architettura si basa molto su che cosa sia il limite Questi spazi tra interno e esterno che non sono quasi mai definiti Dov'è il limite del progetto? Un'altra cosa che poi gli chiederemo E quindi volevo ringraziarlo veramente per averci Essere qua con noi Grazie Angelo Grazie Angelo Grazie Angelo Grazie Grazie Federico per la invitazione Io proverò di parlare questa lingua strana Che non so, non è proprio italiano Non è però Chiedo che mi aiuti quando no Però è un onore, un piacere molto grande essere qui con voi Io ho portato alcuni progetti Però lo più interessante per me E' essere qui per parlare un po' Per charlare un po' No? E discutere E discutere, grazie Un po' Quindi E vorrei fare una presentazione La prima cosa che vorrei parvedere è la scuola dove io sono andato a studiare Arquitetura Che è una scuola della Università di São Paolo La scuola di Arquitetura Disegnata negli anni 60 Per Villanova Cigas Un architetto che è stato anche fondatore di questa scuola Nell'anno del 49 Per me L'esperienza di andare fino alla città di São Paolo Dopo di aver vissuto fino a 18 anni in la mia comuna Che era una comuna esattamente mille volte più piccola che la città di São Paolo E' stato un cambio importante Dopo l'esperienza di fare l'architettura in questo edificio Oggi Io so che sicuramente ho imparato moltissimo Dello edificio lo stesso E' chiaro che ho avuto Importanti professori Però l'edificio è per me come un personaggio Più importante Della mia memoria Della scuola di architettura Una maniera di descrivere questo edificio E' che è un edificio che è stato fatto senza porta E' un po' come Federico diceva Un edificio che non si sa esattamente dove termina Qui c'è quasi un scherzo Che con la legge per esempio Che non permette fumare all'interno dell'edificio Qui nessuno sa esattamente dove si può e non si può Perché questo spazio per esempio E' il cuore dell'edificio Però è molto più esterno che interno Un edificio senza porta E con la luce che viene da tutta la coperta Un edificio con 110 metri di lunghezza No, di lunghezza E 66 metri di larghezza E la scuola E vorrei dire che è un edificio senza porta Però Una cosa che per me è interessante E' che è un edificio senza porta Prima di esistere La foto era di qua Tutta la coperta è questo In un certo modo Transparente, translusta Quindi è un caso che si potrebbe dire Che è un calcestruzzo Traslusto E c'è un Qui è un livello della strada Tutto aperto da questa parte Le hampe che vanno su La biblioteca per esempio Che è in questo piano qui C'è la facciata all'esterno Che è esattamente la stessa Che è quella all'interno Questo è un piano Che pertenece agli studenti Della scuola Tutto che c'è qui Le caffè Le librerie Pagano un affitto All'associazione degli studenti Qui è Tutti i departamenti dei professori Gli studi E qui per lezioni teoriche E questa è la scuola E questa fotografia A me mi piace molto È una fotografia molto conosciuta Per noi Però un giorno Io ho preso questa fotografia Per fare un'allestruazione Di una cosa che diceva Villanova Artigas All'estudante Io che non ho mai Conosciuto A Villanova Artigas Però a lei Le piaceva dire Che noi dobbiamo Sapere come fare un edificio Come una città E una città come un edificio E ci sono due fotografie Che è questa E questa Che è il centro Della città di San Paolo Che per me Era Facevano L'illustrazione Perfetta Di quell'idea Di Villanova Artigas E Quindi C'è la scuola formale In quell'edificio Che ho fatto vedere Però chiaro Che per me L'esperienza Della città di San Paolo Io sicuramente Ho imparato molto Io credo Che devo molto Alla città In un modo Che dopo Ho fatto Come una cosa Più sistematica Ho fatto Un master Un P.I.C. Sulla città Però In un Abbordaggio Molto particolare Di che Come L'esperienza Di vivere La città Fa parte Del nostro modo Di pensare L'architettura Un po' così Quindi La topografia In San Paolo È molto Particolare No C'è Questa Questo è Un disegno Che mi piace Molto Perché è Fatto Negli anni Cinquanta Per Il nostro Più importante Geografo Di geografia Naturale In San Paolo E Questo disegno Lui ha fatto Per Su P.I.G. Negli anni Cinquanta Siccio urbano Della città Di San Paolo Se capisce E che è una città Che è stata fondata Qui C'erano due Fiumi Uno di qua Oltre di là Che facevano Come chi vale Molto profondo Che in quello Periodo Erano come due Pareti Di protezione Della città Per 300 anni La città È rimasta Chiusa In questa parte Dopo È cominciato Ad andare All'altra parte Di qua E di là E Questo passaggio In San Paolo Io credo Che è Marcante Che c'è Una relazione Con la nostra Cultura Costruttiva Perché Io Chiamo Questo periodo Di 300 anni Qui E in questa parte Come periodo Della Recusa Difiuta Rifiuto De recusare Come Difiuto Perché Per 300 anni La città Rifiutava Andare A fuori E questo Per una questione Di protezione Però dopo Durante Tutto Il secolo XIX La città Ha cominciato A enfrentare Il vuoto Di questo Come un canyon È un piccolo Fiume Però molto Veloce Che è fatto Un buco Di 20 metri Di profondità 150 metri Che era Che era Una protezione Importante Qui è come Una parete Dopo Il valle Sige Basso Dell'altra parte Però Lo stesso 20 metri Qui è Qui è un plateau E Dell'altra parte Un plateau Esattamente In lo stesso Livello Per Cento anni Dopo Quelli 300 La città Enfrentava Come la difficoltà Di trasponere Questo Valle E dopo Hanno Costruito Un viaduto Un ponte Un ponte Che Per me È come Abbiamo Questa Geografia Primordiale E dopo Questo ponte Che Per San Paolo Per la cultura Costitutiva De San Paolo Credo Che è Costruzione Come Fondamentale E dopo Si ripete Questa situazione Geografica È molto interessante Una cosa Che è successo Quando Le Corbusier È andato All'America Do Sul Per la prima volta Prima a Buenos Aires Dopo Ha volato Di Buenos Aires A San Paolo La prima volta Che Le Corbusier Ha preso Un aereo Lui Ha visto Questo Parque Questo Ponte E non so Se Conosce La proposta De Le Corbusier Per San Paolo Per l'anno De 29 Che è Un Due Ponte Che è Un Crotchano Si Crotchano Come un Cardos De Comandos Però Totalmente Construtto Con Le Auto Nel Teto De Questa Parte De La Città È stata Molto Importante Per la Proposizione De Le Corbusier Però Anche Chiaro Lo progetto Che non Conosceva Di Matetrucco Qui La Fabbrica De La Fia Di Torino Che era Come Un Insai Di laboratorio Di quello Stesso Progetto Però Le due Cose Che Insieme È Interessante Per Compartire Un po' Questa Questa Idea Della Città E Di Come Pensare Questa Cultura Costruttiva E Di tutto Quello Che era Già Costruito In La Città Di San Paolo Io Ho Fatto Questo Sketch Che È Un Intento Di Fare Vedere In Soltanto Quattro Operazione Quello Che Potevamo Fare Con Quella Stessa Struttura Costruita Però In Un Modo Per Cambiarla Perché Ci Sono Qui Al Plateau Della Città Istorica La Plateau Che In Un Primo Momento Era Come Una Parete Di Protezione Dopo Abbiamo Superato Però Sempre Quella Memoria Del Primo Periode Della Rifiuta E' Questa La Parola Rifiuto Come Belvedere Chiudono Completamente La Veduta Di Quella Paesaggio Che Sarebbe Che Molto Interessante Quindi Una Primera Operazione Io Ho Chiamato Come To View Che Come Per Aprire Aprire Veduta Di Quello Che Abbiamo Perso Con Tutti L'edificio Che La Blocca Però Aprire Questa Veduta Senza Perdere L'edificio Che L'edificio Erano Costruito Bastavano Che Possiamo Aprire Quello Piano Terreno Dopo La Seconda Operazione Che Era Di Come Fare La Transposizione Fra Un livello Inferiore Della Città A livello Superiore Della Città Perché Proprio Così Sono Come Due Plateau Un Plateau Che Più Alto 20 Metri Più Alto Che Questo Qui Per Fare La Connexione Fra Quelle Spessore De 20 Metri Di Altesa Non Come Dire Che San Paolo C'è Una Caratteristica Che Per A me È Molto Particolare Che Un Piano Del Solo Del Terreno C'è Un Spessore De 20 Metri Di Altesa È Bastanza Vero È Bastanza Recorrente La Struttura Della Città Quindi Questa È La Seconda Operazione Come Fare Questo Passaggio Che In Generale Si Fa In Un Modo Molto Precario Primario Che Per Una Strada Con Una Pendente Molto Forte Che Va Sotto Fino Sul Però In Modo Precario Però Potevamo Fare Edifici Commerciali Come Altri Tipo Di Cosa Che Abbiamo Tanto In La Città Però Che Non Si Sfruttano Esattamente In Questi Modi Dopo Una Terza Operazione Che Quando La Città Sotto Viene Viene Giù La Città Alta Quindi Questa Che ho chiamato Come Infiltrazione E La Quarta Che Quando La Città Alta Viene Sopra La Città Bassa Che Come Invasione Quindi E E E E Come Un Insume Molto Breve De Queste Considerazioni Della Città Di San Paolo Io Bene Quello Che Ho Preparato Per Vare Vedere Molto Per Fare Questa Conversazione Quello Che Diceva Che Quando Io Ho Finito La Scuola Di Arquitetura I Primi Lavori Che Io Avevo Per Fare Era La Mia Comuna Però 400 Km Lontano Della Città Di San Paolo Io Non Potevo Andare Allì A Vedere E Anche Le Cliente Non Avevano Ricorsi Per Pagarmi Viaggi Molto Spesso Io Lavoravo In San Paolo E Doveva Essere San Paolo Nell'ufficio Lavoravo Però Per me C'è Una Condizione Che Al Fine Io Credo Che È Stata Molto Interessante Questa Distanza Del Canciere Perché Io Credo Che Casi Contraditoriamente La Distanza Del Canciere Mi Ha Fatto Molto Vicino Della Costruzione Del Canciere Perché Io Avevo Bisogno Di Pensare Molto Sobre Su Come Si Faceva La Costruzione In Quello Momento Era Come 1989 Fino 94 Quando Ho Fatto Questa Costruzione Io Noi Facevamo Tutti I Piani Disegnati A Mano Dovevo Inviare Al Canciere Por Correio La Posta Normale Al Muratore Direttamente Non Avevamo Un Ingeniero Nel Canciere Niente Questo È Un Lavoro Che Per Me È Speciale Come Significato Perché Dopo Il Prima Esperienza In Questo Lavoro Ho Deciso Di Fare Una Piccola Costruzione Come Erano Di Solito Però Con Pochissime Azioni Nel Cantiere Quindi Questo Che È Una Clinica Psicologica In La Mia Comuna È Fatta Con La Struttura In Caustruzzo Doi Paret In Pietra Dopo Panelle In Leño Pero In Leño Che Che De Reflorestamento Che Veniva Al Cantiere E Nas Dimensiones Como Così Como La Utiliziamo E Solamente Non Soltanto Cravavamo Qui Tutti i vetri Sono Sin Marchi Infissi 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 No No Frames È È È È È È È È È Si Ripassa Un metro E Medio Per Fare Un Pacio È È La Tratta Delle Persone Di Qua Un Ponte Si Quindi Questo È Un Pacio Ripassato Qui C'è Una Tavola Di Reunione Di Un Gruppo Di Studi Di Psicanalisi Una Una Piccola Biblioteca Questa È Acqua E Qui Il Ponte L'entrata Delle Persone Una Reception Una Sala Di Spera Un Waging Di Attesa Grazie E Qui È Lo Gabinete Del Psicanalista È Che È Proprio Così Però È Lo Che Per Me È Come Una Condizione Climatica Che Abbiamo È Che Davvero Queste Due Sale Sono L'unico Spazio Veramente Chiuso Tutto Questo È Più Aperto Sta Fra Lo Esterno E Lo Interno È Una Condizione E Questa Federico Climatica Che Si Dico Che In La Maggior Parte Di Brasile Possiamo Abbiamo La Possibilità Di Avere Lo Stesso Ai Fora E All'interno È Come Poco Come Dire Poco Però È Cambio Molto Interessante Quando Disegniamo Un Progetto E Non È Così Facile Per Noi Fare Così Perché La Tradizione Di Architettura Che Abbiamo In Brasile E Anche Europea È Una Tradizione Che C'è Un Punto Primordiale Di Fare La Construzione Dell'abrigo E Dell'abrigo E Soprattutto L'abrigo Della Intempere Del Fredo Quindi L'erenza Che Tendiamo È Di Fare Una Un Architettura Che Isola Abbastanza Lo Che Sta Dentro E Fora Quindi Una Scuola Di Architettura Come Quella Che Ho Fatto Vedere È De Imaginarla Senza Porte Prima Che L'edificio Esistisse È Interessante Che Non Era Un Edificio Come Qualsiasi Altro Senza Le Porta Non Aveva Porta Prima De Esistir De Esistir Quindi È Stato Imaginato Senza Le Porte Quindi Qui Per Ese No Queste Parete Con Pannelli Legno Però Noi Lo Abbiamo Fatto Con Un Pannelli Esterno Che È Fisso Così C'è Un Punto Nella Soletta Per Appoggiare Il Pannello Lo Facevano Nel Pavimento Lo Alzavamo Per Ponerlo Qui E Dopo C'è Un Altro Pannelli Interno Che Che Po Scorrevole Qui All'interno Non Che Un Pannelli Scorrevole Che Però Lo Che Mi Perceva Che Un Pannelli Che Basta Desplastar Basta Spostarlo Grazie Cinque centimetri Per Chiudere Come Dieci Metri Di Pare Non Chiudere Esattamente Perché L'aria Sempre Può Passare Ma Piove Non Non Fa Problema E Così E Tutto Molto Semplice Però Qui Si Può Vedere Come È Trasparente Qui Ci Sono Questo Che È Divertente Che Le porte Che fa La separazione Fra La Reception La sala Di Attesa La Reception Il Gabinete Del Psicanalista Perché Abbiamo Bisogno Di Fare Questa Separazione Però Non Era Tanto Una Separazione A Cuscar Soltanto Per Non Vedere Quello Che Ingressa Che Esce Della Sala Del Psicanalista O Per Non Far Vedere Quello Che Sono In La Sala Di Attesa Quindi Abbiamo Fatto Queste Porte Come Un Panello Che Non Tocca Il Pavimento Non Tocca Il Soffitto E Che Gira Però Gira In Un Anillo Che C'è Una Parte Più Alta Una Più Basse Molto Comune E Quindi Sempre Si Ferma In La Posizione Chiusa Però Un Lato È Giallo L' Lato Azul Quindi Guarda La Porta Un Painello Che Diallo Se Cambia Azul E È Difícil De Capire Exatamente Que È Succeso E Non Era Un Problema Anche 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 Un Amica Della Mia Comuna Per Una Città Vicina Ora E Non Vuoi C'escrivere Dire Soltanto Qui Soltanto Alla Strada C'era Una Pendente Che Saliva Come Due Metri Mezzo Dalla Strada Al Fondo Però Quando Sono Andato A Vedere Terreno L'artico Proprietario Di Questo Terreno Aveva Ordenato Per Farlo Piano Per Una Per Credere Che Se Piano Vale Più Soldi Di Quello Con Prendente Quindi Due Quello Mi Ha Fatto Molto Male Per Due Ragioni Prima Questo De Cambiare La Topografia Naturale Però Dopo E Che Qui C'è Un Vicino C'era Una Costruzione Che Con Un Rischio Molto Serio De De Canale Canale Crollare Crollare Quindi Io Quando Ho Lasciato Il Logo Non Pensavo Che C'era Sono 15 Metri Di Larghezza 30 Metri Di Lunghezza C'era Qui Come Medio Metro Di Altezza Di Piano Quindi 450 Metri Quadri Di Terreno E Avevamo 225 Metri Cubicos De Volume Di Tierra Na Tierra Terra E In Una Situazione Che Non Mi Piacere E Che Non Interessava Niente Quindi Io Non Volevo Apportare Terra Nel Terreno Però Anche Non Volevo Esportare La Terra Nel Terreno Però Non Voleva Tampoco Avere Quella Terra Da Aquele Modo Quindi La Prima Cosa Che Pensavo Se Sarebbe Possibile Costruire Come Che Queste Tre Casa Per Riempire Con Quello Volume Di Terra E Fare Una Topografia Che Non Era Esattamente La Che Avevamo Trovate Quando Siamo Andati E Sono E Abbiamo Fatto Esattamente Questo Tre Casa Per Fare Tre Giardine E La Vereda O La Della Estrada Qui Che Va All'interno Del Terreno Come Un Povimento Che Non È Proprio Pubblico Però Lo Stesso La Estensione Dello Stesso E Questo È Un Giardino Della Del Living Questo È Un Giardino Del Baccio D'ingresso Nella Casa Questo Un Giardino Delle Camere E Per Fare Queste Autese Le Più Confortabili Possibili Quindi Ha Bisogna Di Avere In Mente Che Questa Autesa È Un Metro Vinticinque Questo Qui Quindi Io Sono Di Piede In Questa Posizione Guardo E Parlo Con Una Persona Lì Lo Stesso Livello Questo Giardino Non Sacra Quella Parte De Lo Stesso Ambiente Della Casa E La Stessa Cosa Succede Qui Quando Io Sono Qui Il Living E Questo Spazio Sono Mismo Quindi La Relazione Di Autesa È Molto Particolare In Questa Casa Però Per Farlo Così Io Doveva Evitare Tutte Le Quindi Qui Qui Abbiamo Una Luce Di 12 Metri E Due Spazi Di 4 Metri Ogni Lato E Questa È La Struttura Sono Due Trave Una Che È Caricata In Tutta L' Estensione Un' Altra Che Attraversa Sul Il Vuoto Di Questo Pacio Quindi In La Prima Conversazione Con L'ingegnero Di Struttura Lui Mi Ha Detto Noi In Brasile Abbiamo Bisogno Di Fare Questo Tanque Di Acqua E Lui Mi Ha Detto Che Qui C'era Un Problema Perché La Trave Non Era Caricata In Questa Parte E Che Era Non Era Tanto Un Problema Di Stabilità Era Un Problema Più Sofisticato Per Lui Che Era Di Come Fare Controllo Della Deformazione Della Struttura E La Punta Punta Non E Del Dispausio No In Due Parti Perché Se Una Forza Si Applicava Para Deformare La Struttura Qui Non C'era Una Forza Per Fare Un Counter Weight So No Scusate Qui Questo Tanque Di Acqua Che Era Di Solito Lo Mettiamo Qui In La Coluna Era In Questo La Prima Versione Era Proprio Qui Anche Però Quando Lui Mi Ha Detto Questo Io Le Ho Fatto La Domanda Quanto Quante Tonnellate Aveva Bisogno In Che Posizione Della Trabe E Se Sarebbe Possibile Spostare Tanchi Di Acqua La Posizione Si Poteva Fare La Dimensione Di Questo Tanque Esattamente Come A Lui Le Pare Ceva Le Sembrava Grazie Meglio No Solo Perché Quando Si Guarda Questa Fotografia Io Sempre Ho La Paura Che Si Guarda La Fotografia E Che Questo Tanque Di Acqua Può Sembrare Come Un Sforzo Molto Grande Per Niente Però E L'opposto È Un Allivio Un Sollievo Un Sollievo Dello Sforzo Della Struttura La Pianta Del Piso Inferiore Non Con Niente Però Questo È Un Progetto Che Voglio Fare Vedere Veloce Per Non Non Importa Perché Possiamo Federico In Qualche Punto Si Può Un'altra Vota Senza Porta Guarda Qui Che C'è Un Voto Che Tutto Il Vento Sono Sin 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 Grazie No C'è Una Cosa Che Sembra Un Scherzo Ma Però È Interessante Perché Che Per Polire Questa Casa C'è Un Vuoto Fra Il Pavimento Che È Molto Utile Loro Fanno Questo È Interessante Per Me Perché No È Davvero Perché C'è Una Parola Che Per Noi È Molto Importante Che È La Toleranza Quando Per 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 La Toleranza In Questo Detaglio È Chiamo Detaglio Io So Che Sembra Anche Un Scherzo Perché Non C'è Niente Però Abbiamo Lavorato Molto Per Farlo Quando La Toleranza Qui È Importante Perché C'è Un Vuoto De 7 Centimetri Fra Limiti Della Soletta E Un Pannello Di Vetro Questo 6 Centimetri Era Una Decisione Di Come Se Fa Due Cose Di Come Io Fare Per Fissare Il Vetro E Anche Di Fare Con Che La Toleranza Di Misura Che Abbiamo Nel Cazzo Stru E Quando Si Avvicina Le Due Cose Se Io Faccio Come Un Una Distanza Di Due Centimetri Questa Differenza Di Toleranza Fra Una E Altra Cosa Sarebbe Molto Leggibile E Sembra Io Credo Come Un De 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 La Costruzione Se Io La Faccio Con Sette Non Si Può Leggere La Differenza E Non E Che Lo Caustruzzo È Meno Preciso Che Il Vetro Che È Un Altra C'è Un Altro Parametro Di Toleranza È Perfetto Però La Toleranza È Più Grande Che Quella Che Abbiamo Nel Vetro È Pronto Non Non Importa Questo Si Viene Il Vetro Che Non È Così Lo Stesso Senza Niente Nel Nel Nella Camera Non Non Per Per Problema Del Del Freddo Però Del Mosquito Che Era Un Problema Nel Can Qui Per E Posso Fare Vedere Un Detaglio Che Usiamo Perché In Brasile Il Problema Che Abbiamo Non È Tanto De Fare L'Isolamento Termico Isolamento Isolamento Termico Perché Non C'è Freddo C'è Un Punto Lo Freddo No Però C'è Un Problema Opposto Che Cambia Un Po Non Non Abbiamo La Temperatura Sotto Zero Qui Non Abbiamo La Temperatura Sotto Quinti Però E Quando Sotto Zero C'è Tutto Il Problema Della Condenza Che È Tutta Un'altra Roba Però Qui Quello Che Abbiamo Bisogno Da Fare È Da Proteggere Perché Questa Parete Tutte Le Parete Dessa Casa Sono Parete Di Caustruzzo Con 5 Centimetri Di Spessore È Una Singola Lastra Lastra Di Acciaio 5 Centimetri De Comportamento Térmico Naturalmente È Un Disastro No Si Però Se La Protegemo Con Un'altra Superficie Di Qualsiasi Cosa Per Fare Ombra In Questa Parete Sarà Bene E Questo Material In Questa Casa Che Abbiamo Utilizzato È La Formica 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 E Per Questa Questa Ventana È 8 Metri Di Lunghezza 4 Metri Di Vedro Che Si Mette All'interno Di Questo Vuoto Fra Quello Pannello De Formica Questa Parete E 4 Metri Dell'altra Parte Si Apre Totalmente Questa È Una Fotografia Della Strada Però Il Fotografo Qui È Come Due Metri E Mezzo Di Altezza Perché Questo Giardino È A Due Metri Di Altezza Della Strada Questo Un Concurso Che Abbiamo Appena Perso Però Davvero Che Mi è Piaciuto Molto Sviluppare Questo Progetto Perché È Un Logo Che Per Me È Il Mio Ogni Giorni Che Io Abito Qui In Questa Venita Lavoro In Lavoro In Ogni Giorni Passo La Pasegata La Pasegata Che Faggio De La Casa Fino Lavoro 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 Sì Molto Con Una Strada Importante E Che C'era Una Strada Dove Gli Edifici Più Comune Sono Edifici D'Ufficio E D'Ufficio E Qui Loro Volevano Fare Questo Museo In Lotto Che È Abbastanza Piccolo In Senso Erano Soltanto 20 Metri Larghezza 50 De Lunghezza E Lo Che Mi Sembrava Interessante È Chiaro Che Questo Dibucco Questo Disegno È Lo Primo Che Abbiamo Fatto No È Il Sviluppo Mi Piace Fare Vedere Questa Elevazione Perché In Nostra Tradizione L'Elevazione È Un Un Disegno Un Po Che Desprezziamo 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 Eh E Questo Progetto Eh Io posso Descriverlo Abbastanza In L'Elevazione Perché Abbiamo Organizzato Il programma Di questo Museo In Quattro Funzioni Principali Questa È Una Trave Che Contiene Contiene Grazie Che c'è All'interno Tre Pavimenti Ogni Pavimento Con Doble Altezza Che Dove Sono Le Salle Disponive E Dopo Per L'orario Del camion È Molto Restrito Per dopo Una piazza Per arrivare Con la macchina L'accensore Per le macchine E tutto Però Veloce E Lo Piano D'ingresso E questo Acqueio Una Cosa Che Non Per Commentare Quello Che Abbiamo Espeso Espeso Un sacco Di Tempo Per Perché Perché Le funzioni Quello Quattro Blocco Di Programme Sono Abbastanza Abbastanza Indipendenti Quindi Uno Arriva Qui C'è Questa Piazza Informazione Appoi Il Caffè Una Store Museo Qui Sono L'accensore Per Quello Researching And Learning Qui L'accensore Per Il Museo Qui L'accensore Per Edificio Administrativo Sono Ingressi Diversi Per Funzioni Diversi Che Di Solito Independente L'auditorio Si poteva Se poteva Cambiare Questa è una parete Che Va Giù O Su Se Può Essere Un Unico Spazio No No Però Non Porta Dopo Qui No In Questo Spazio L'edificio Administrativo Sta Di Qua E Di Qua Però Questa Parete Non Ci sono Più Cariche In Questa Parete Praticamente Niente Quindi La Spostiamo Un po' Come Giriamo Per Fare Entrare Luce E Avere Veduta Dell'ufficio Allo Esterno E E di una sala di edizione e e ho troppo no abbiamo un po' questa è per farvi dire l'officina che abbiamo è qui questa è un'avvenita una strada importante qui il fiume uno dei tantissimi fiumi che abbiamo e qui c'è una piccola strada che fa la connexione fra l'importante via e il fiume e in questo punto rosso è una volta dove abbiamo avuto la domanda per fare una piscina è un programma che per me lo punto più interessato il primo punto interessante è che nessuno sapeva come chiamare il progetto perché è per una 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 copia grazie è per una copia lui è un professore perché è un po' ogni fine settimana è come il traffico tutto della città decidono le stesse quindi è un po' è un po' disgustivo però no è chiaro è interessante però è insupportabile per fare tutto fine settimana e loro quindi hanno comprato un lotto che è 10 metri di larghezza 25 di lunghezza per fare una piscina in un giardino qui è per dove arrivano tutti gli aerei del rio di Janero che arrivano a San Paolo quindi vuoi dire che ogni 7 minuti più o meno arriva un aere e mi piace molto questo punto perché è però è la ruta esatta degli aerei che passano qui con un'altesa di 600 metri ogni 7 minuti vicino della 6 della tarda è molto più che questo però mi piace perché lo che fa un po' di questo progetto speciale è dove sta ubicato dove sta situato perché è là nel cuore della città di San Paolo interessato perché loro hanno venuto all'ufficio una prima volta con una pianta che avevano disegnato loro di come volevano fare un progetto per me mi piace molto considerare che nostra funzione non è avere idee però è fare costruzione è chiaro che alcune idee possiamo però quello che fa da noi architetti non è avere idea avere idea non è come attributo specifico degli architetti tutti li hanno però quello che è il nostro attributo specifico è sapere come si fa la costruzione se sono un architetto o un disegnatore di edificio e anche mi piace molto seguire quelle idee che hanno le persone come fare la conversazione un po' più divertente e loro avevano fatto un disegno che era una piscina qui nel terreno e no è una piscina lunga qui nel terreno e dopo un departamento attaccato nella parete di divisa del vicino per per un piccolo departamento per una persona che seria housekeeper e per eventualmente una notte rimanere qui e loro avevano questa piscina qui erano molto preoccupati perché questo vicino c'è 6 metri di altesa quell'altro noi stessi e il nord in quella direzione quindi tutta la mattina c'era ombra nella piscina di questo vicino e il pomeriggio quello faceva quindi non c'era sole però c'è una legge qui un'altra cosa è che la piscina non è proprio una costruzione quindi io potevo fare la piscina 6 metri di altesa è molto interessante perché immagina una persona qui è come essere in un buco e se io posso alzare la persona fino qui si apre un paesaggio che non esiste in questo punto quindi sono 6 metri però cambia totalmente il paesaggio e la piscina aveva sole tutta la giornata e quindi la piscina è di qua e qui è come una spiaggia un solario e questa parete sta un poco inclinata anche per permettere il sole arrivare più una faccia più larga del terreno per fare il giardino e abbiamo questo quindi piano terreno giardino qui c'è come un spazio una cucina per fare un pranzo e le colonne qui una colonna qui un'altra colonna 12 metri di luce e la piscina sta contrapesata per la spiaggia un po' così la struttura questa è la housekeeper e qui il departamento per loro che sta sicuramente la circolazione un po' e anche c'è un circuito dell'acqua che la piscina quando si fa l'acqua circolare la piscina in questa punta va giù per questa altra piccola piscina in questa punta va giù questa piscina dopo quella c'è un vertedoro in questo punto questa viene qui per la scala in questo punto di qua ritorna alta anche superiore quindi era chiaro guarda questo è il disegno che loro hanno portato sono contento perché c'è sole in questo punto noi siamo a livello del fondo della piscina qui è la superficie dell'acqua quindi c'è una rampa di qua e in questa colonna c'è una plataforma con un accessore con una fermata qui oltre lì e di qua si sale la la scala sta localizzata nel spazio nel vuoto fra la piscina e la spiaggia c'è un metro qui dove c'è la plataforma qui e la scala prima si sale qui in questo punto dopo all'interno della colonna si sale e si arriva in quello punto però all'interno del vuoto la scala è come una griglia abbastanza trasparente io devo dire che guarda come la piscina arriva in la colonna io lavoro con alcuni ingegnero calcolista però sicuramente ho avuto la fortuna di trovare Ibsen che ha fatto questa piscina la casa che posso far vedere dopo che è una persona impressionante perché c'è una volontà una disposizione di fare la struttura come che per investigare l'architettura lo so è come che c'è una disposizione di lavorare perché è chiaro che per fare una struttura come questa un ingegnero gattagna lo stesso e lavora dieci volte in più forse perché hai che andare tornare andare tornare è poco bene non è ancora visto io queste sono le fotografie questo non è parte del progetto però guarda qui ci sono due punti dove si toccano sempre così e qui si può fare una idea di quello che quando ho detto che cambia il paesaggio il paesaggio qui come è tutta un'altra roba facciamo così questa casa non passo veloce no perché c'è un'altra qui non è che è meglio è che mi piacerebbe più no per non parlare troppo tutte le immagini e dopo è così è una casa lo che è divertente di questa casa è che quando sono andato a vedere non c'era terreno perché c'era un buco e la casa era come sei metri qui alla strada è un buco come guarda vicino è lo stesso lo perfilo profilo naturale non naturale del terreno era sei metri più basso che la strada per una parte non c'era il terreno c'era un buco però sotto era piano e lo che per me era molto interessante è che indietro c'era una mata una foresta un'area verde molto molto interessante no è incredibile perché tutte le case nella strada bloccano la veduta dell'area verde per la strada e per le case anche non sfruttano quindi in questa casa c'era un programma un poco particolare perché per loro per la coppia per la coppia tutti i due lavorano a casa quindi volevano un studio e che loro volevano anche separato dalla casa quindi c'è un piano della strada vuoto una scala che sale all'ufficio un'altra che scende alla casa è questa è la casa che no solo perché una volta ancora la struttura fatta per Ibsen lo stesso ingegnere della piscina e lo stesso ingegnere della prima casa che ho fatto vedere quella del tanque di acqua e quando quella casa del tanque di acqua io ero molto preoccupato perché la struttura noi abbiamo gettato la prima soletta senza struttura solamente i punteggi dopo la seconda è solo le trave che è la struttura io ero in quello momento molto preoccupato di questo processo noi non siamo costruttori soltanto facciamo il progetto però qui era se io faccio una comparazione fra quella e questa quella era per bambini questa qui era davvero rischiosa c'è un punto che è chiaro che dobbiamo fare io credo che per noi il processo di disegno non c'è un punto che è l'immaginazione però c'è un punto che è un immaginare non so se si può dire così conseguente capisci che si può fare non è una fantasia e per noi è un po' più intuitivo che per un ingegnero calcolista io credevo che io in questo caso io potevo immaginarla perché c'era un precedente di un'altra esperienza e è sicuro che se non aveva fatto quella altra prima io non potevo proponere questo io credevo che per un ingegnero calcolista non era così che lui solamente doveva fare una verificazione nel calcolo e che se era bene tutto bene e una volta noi due eramo in una conferenza insieme che io ho invitato a lui per fare vedere questa casa con me e io ho detto questo e lui immediatamente mi ha detto no non è esattamente così perché per me sapere che i lavoratori possono esecutare tutto è che mi permette anche proponere la soluzione non tanto del calcolo di struttura per la soluzione costruttiva bene in questa casa in un primo momento abbiamo pensato in fare la struttura perché qui è come nella foto anteriore si vede sta con arboles per tutto e quindi noi volevamo toccare il suolo in alcuni punti soltanto e non fare una movimentazione del terreno e non toccare troppo il suolo è molto difficile di fare contenzione tutto quindi tre punti fare la coluna in calcestruzzo e dopo le trave in acciaio e dopo e dopo le trave gettare la prima soleta sopra e quindi andare giù con una cassaforma che si poteva spostare a un lato e spostare giù e fare così era molto mi sembrava molto logico però il costo delle trave in acciaio in questa parte ha fatto impossibile farla così e abbiamo bisogno di cambiare tutto per calcestruzzo e quando facevamo questo cambio un giorno le copie sono arrivate nell'ufficio per dire che loro volevano una piscina piccola dicevo però c'è la spiaggia però voglio dire una piscina anche piccola e tutto e c'è un punto che la piscina qui nel solo era non c'era sole qui in qualsiasi punto perché davvero pieno di alberi e quindi questa piscina qui che è la coperta è molto per me molto divertente come le immagini nella testa delle persone appariscono perché se dicono facciamo una piscina nella coperta no non si può però tutti fanno il tanco di acqua nella coperta e è comune per una piscina non si può io dico va bene quindi nuoteremo nel tanco di acqua capisci perché è capire è così sono due colune qui e una sola qui qui c'è una trave che collega le due colonne e qui una trave che collegava le due colonne per fare per fare la piscina come che apriamo la trave così e la riempiamo con acqua quindi in questa coluna ci sono 380 tonnellate che vanno giù e qui più o meno meno della mità della trave sono appese tutte le solette quindi questa 7 metri di larghezza 10 di lunghezza sono 4 tessure tiranti le stesse parole in portoghese e le solette sono 16 cm di spessore e guarda che queste solette non toccano le colonne quelle tampoco in principio pensavo un poco di fare come non è che la casa non è mobile per fare come un caude un po' che di fare una conta come che il centro di massa di queste solette la distanza della coluna e quella per fare un equilibrio ho parlato un po' con l'ingegnero e lui rideva un po' perché è interessante un po' queste contra però come la struttura non è dinamica non ha bisogno di essere così preciso e al fine abbiamo affrontato la sfida di gettare prima questa dopo questa dopo questa e dopo la struttura una parte tutta è struttura però solo dopo la terza è che avevamo la struttura davvero e c'era un punto qui è il 50% di decribità di pendenza in una parte di Brasile che è la di più dove piove in più il rischio di questo però c'erano questo bravissimo ingegnero e anche un bravissimo consultore di solo tutte le puntelle e pure un controllato controllato così sulle cose e abbiamo riuscito riuscito questi arboli ah arboli erano quelli che avevamo ancora un punto solo uno in più guarda qui è il mare qui è questa casa c'è un programma peculiare perché per la coppia è una casa per vivere per i suoi figli sarà come una casa di vacanza una una camera qui tre in più di qua per fare queste camere indietro e sfruttare la spiaggia abbiamo fatto questo spostamento fra questo livello e questo in modo che la faccia inferiore di questa soletta diventa un metro e cinquenta e cinque più alto che questo qui quindi di qua si guarda perfettamente il mare e dopo perché vuote la maggiore parte del tempo io non volevo chiaro come riempire la casa con una certa nostalgia perché non riempire la casa di vuoto quindi c'è una indipendenza fra la circolazione di qua e qui c'è un'altra circolazione quindi quando non c'è nessuno qui il il living diventa lo stesso non sta pieno di un'altra Un hander, quello primo era un four hander, è una casa, quindi qui con la piscina, qui anche quando si fa circolare l'acqua dalla piscina, l'acqua c'è un vertiduro in questa soletta, in quella soletta, e l'acqua, quindi non abbiamo isolamento, però soprattutto acqua, che per la condizione nostra è molto, in senso, è molto meglio che isolamento. Qui siamo sopra la camera principale, qui è la facciata l'est che guarda il mare, e che c'è questo pannello di brise, che è come una ghiliocina, c'è un contrapesso qui, quindi con la mano di questo pavimento, del pavimento sotto, si può controllare, sono come 800 kg, però che si può movimentare facilmente perché abbiamo un contrapesso. Dopo questa casa abbiamo fatto una strategia, quindi qui è un ingresso, la strada si viene qua, si scende qui, qui è totalmente aperto, si scende una volta in più per lì, però c'è una circolazione abbastanza circolare, e c'è una strategia che dopo che abbiamo tolto i puntali, era caro, evidentemente, perché tutti e tre soletti dovevano essere puntaliati, però quando abbiamo proprio finito il calcio estruzzo, dopo 28 giorni, che possiamo togliere tutto, che era tutto affittato, non potevamo più avere i puntali nelle opere, perché il costo sarebbe molto più alto. Quindi tutti i dettagli di costruzione che hanno avvenuto dopo il calcio estruzzo, sono stati disegnati come una strategia di fare tutto dall'interno all'esterno. Per esempio, per fare questi dec in legno, qui, c'è questa trave, però questa trave, quando la gettiamo, abbiamo lasciato cinque buchi e le trave in acciaio che si appoggiano nella soletta del living, dopo il pavimento in legno veniva dall'interno all'esterno, il pannello di vetro, per esempio, quando si guarda qui, in un primo momento c'era la soletta e questa pezza in acciaio che sta appoggiata in un tornillo, in una soletta, tornillo, sì? vite, 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 che fa la fissazione qui e il pannello di vetro veniva dall'interno, si appoggiava qui e c'è un altro profilo nella soletta della coperta che lo mettiamo quando oggettiamo la soletta, è un profilo con una forma più o meno così, no? Che lo mettiamo nella arista della soletta e che dopo con il vetro si mette così, che permette di fare il pannello di vetro in lo stesso piano del borde della soletta. e che c'è un'altezza più grande che quella che il vetro si mette all'interno per permettere la struttura di lavorare senza comprimire il pannello di vetro. Però dopo, in un secondo momento, questo pannello di vetro c'era in buchi e in un secondo momento portavano questo pannello di veneno, dove c'è le aperture e tutto, e lo fissavamo è un pannello di legno del vetro, lo vetro era la struttura del pannello di vetro, però questo sono vetro templati, temperati, temperati, e che può succedere di rompere. Quindi c'è un guardacorpo, Per proteggere l'interno è abbastanza leggero perché, just in case, e in un secondo momento, un terzo, quarto momento, abbiamo fatto la fissazione di questo pannello di vetro nel parapetto, per due ragioni. La prima è perché l'altezza del pannello di vetro per non... piegarsi. Per non piegarsi, la togliamo in due pezze, no? che fa molto più facile. E dopo è che succede di un pannello rompirsi, quindi questa pezza è sicura in posizione. Quindi se guarda qui, se vede questa pezza e come sta, si vede come la differenza di altesa e così. Quindi siamo sotto la piscina, che ha un spazio abbastanza esterno. Questa parete laterale, anche se non sia per supportare le case, sono importanti anche strutturalmente, per non permettere il movimento orizzontale. Ci sono due punti come chiave per questo problema. una è quando la soletta tocca la colonna di un solo punto, l'altro è questo vincolo. Quando la colonna sono 11 metri di altesa, però quando si guarda dentro la spiaggia non si vede... Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Ho perso, non è la culpa mia, della Giulia. No, però credo che, una cosa che sapevamo, questo è un concorso che uso per sé, architettico, e chiaro, io sapevo che il progetto che avevamo proposto era in un senso rischioso, perché non era così semplice o facile da, da, è come, io credo che per un museo fare un progetto come così, ha un costo che hai che supportare la idea, come, non è una cosa che passa, però come falta mia, credo che c'è una parte che si fa allo stesso tempo che si fa un progetto, che è un poco la costruzione della retorica di un progetto, di come si fa la esplicazione, ma è che era un po', io ho fatto la presentazione come ho fatto qui, però io credo che forse io potevo sviluppare un po' più questa retorica per fare vedere che questo progetto era un progetto come qualsiasi altro, che non c'era un posto che poteva fare preoccupare la restituzione. Io ho una domanda. Volevo chiedere se parte, ma se cominciamo il progetto schizzando delle sezioni e se si, come mai, perché ho pensato per eliminare la sezione? Beh, da voi io parlavamo un po', parlavamo o parlavamo? Parlavamo? Parlavamo. Circa di... Io... e in la mia scuola di attività, devo dire, la sezione è una cosa considerata molto importante. e la pianta, io credo che dipende molto del progetto, no? Per me questa versione che ha fatto Vettel del concorso in Lado di Linda Paulista, la facciata era un desenho perché io avevo lavorato per due mesi quando ho deciso di fare così. Avevamo ancora un mese. in una macchina quando facevo il cammino da casa all'ufficio e ho deciso di fare così. Però è un poco... Io avevo programma totalmente nella testa, no? Però no perché avevo lavorato molto. e quando ho arrivato nell'ufficio, nella blackboard, la lavagna che abbiamo nell'ufficio, io ho fatto un schizzo che era la facciata, che era molto buono per fare l'esplicazione dell'idea. Quindi c'è un progetto di una chiesa che io ho fatto anche un concorso che non abbiamo perso e vinto perché non c'è finalizzazione in me, dove la pianta è la più importante. Posso agire. Per la mia scuola la sezione è molto... però dipende, no? nella casa che ho fatto vedere al finale, la sezione è molto importante. Però non è vero che si può capire la casa e la sezione. Io non credo. Perché c'è un... la pianta... anche la maniera come si apre la veduta, il paesaggio... la pianta... però la sezione è meno importante. Io credo che il modo come noi di solito cominciamo un progetto è parlare. E per me sempre penso che non importa tanto di che modo cominciamo un progetto. perché ha bisogno di sapere se al final si arriva a un... si raggiunge un... un buon risultato, un prodotto che vale la pena fare. Questa è un poco... la verificazione doveva essere un poco al finale. un metodo che pare... non dovremmo sapere perché lavoro vent'anni... però... davvero che... lo che io so dire... io non so dire di un metodo... però una cosa che credo come che poteva dire... è che c'è una dinamica molto... eh... peculiare... però... una dinamica che è come... ogni momento di un progetto... corrisponde a un comportamento... in una atmosfera distinta. in principio per me è molto importante fare una ricerca... come uno che comincia per la prima volta in la vita... no... non cominciare come un architetto che sa tutto come fare... perché... per me questo è un po' una maniera di morire... un po'... per me è importante questo principio di cercare con molta libertà... dopo... c'è un momento che è un... sviluppare... che è anche... c'è bisogno di sapere come parlare con tutte le persone che... eh... si coinvolge... in un... per sviluppare il progetto... e... e dopo la finalizzazione... dove non si può parlare con nessuno... casi, no... che non si può... anche contestare al telefono... perché... tutto sconsentra e... quindi... per me... questa... dinamica... questa atmosfera... di sviluppare il progetto... è... forse lo più importante... c'è un... un autore... molto interessante... del mexico... messicano... eh... messico... Ottavio Paz... un poeta... un poeta... un poeta... un poeta... che c'è un libro... che si chiama... che... 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 no... che... è... che... che... però si può buttare via dopo ogni poema perché solo sirvano a uno solo poema io credo che un progetto è un po' così un metodo per fare è uno progetto quindi io credo che c'è un processo che ripete, una dinamica che si ripete però non sono esattamente un metodo noi cominciamo per parlare e questo sembra poco però importante perché io credo che quello che facciamo tra disegnare è un registro della conversazione e per me è così vero che io posso prendere una pianta, una sezione e raccontare tutte le conversazioni che abbiamo avuto la conversazione è circa un tema una domanda nella creazione di un progetto per te quanto è importante il rapporto che ha con l'urbano quanto debiti nel progetto il rapporto che ha con la città no, scusa per me non è facile da rispondere perché tutte le domande che hanno sono domande che io anche ho e che cerco da contestare tutto il tempo però un progetto è un rapporto con tutto che esiste nel mondo che non è solamente con l'urbano un mondo che per noi è lo esistente se penso in un senso psicanalitico quello che chiamiamo reale che non è lo che sta solamente costruito però tutto che sappiamo tutto che possiamo sapere però questo rapporto se lo penso in un modo molto diretto come da dire nel contesto nel progetto della piscina è chiaro che dire che il terreno dove dobbiamo fare la piscina è un buco e che se io posso alzarla sei metri io sarò nella superficie è vero è un rapporto con questo contesto però questo è un contesto immediato io pensavo abbastanza in questo rapporto in un museo che abbiamo fatto nella città però questo rapporto è inevitabile anche se per fare la negazione è un rapporto se non mi importa è un rapporto se lo considero demasiado quindi però io credo è per questo lo schizzo della città di San Paolo che ha fatto vedere credo che noi abbiamo un rapporto molto particolare con le città con questo mondo che è costruito perché la fonte di tutto che possiamo proponere per me è questa quindi siamo tutto il tempo guardando per lo che esiste come se non fosse quello che è esistente però come lo esistente si può trasformare in un altro però un altro per fatto delle stesse elementi che fa lo esistente che frequentiamo ogni giorno è diverso un po' perché lo che è diverso de lo che sto intentando dire senza riuscire è che lo diverso è la unità dove è la unità? La unità di un contesto urbano sono gli edifici sono pezzi degli edifici sono gruppi degli edifici è un matone quindi io non credo che la unità sia all'interno di un lotto però sono relazioni e relazioni è tutto che possiamo disegnare quindi un edificio sempre esiste in rapporto in relazione con tutti gli altri però non è un altro della mia città è un altro genito volevo chiederti l'ultima cosa forse volevo sapere appunto di tu dici sempre che il progetto nasce magari tra le necessità da un programma e come è stato o com'è visto che state preguntando se ti costruendo com'è stato processo il mondo svizzero per te come hai influito sul tuo pensiero hai influito sul tuo pensiero per il tuo pensiero radicalmente panorano sì sì o no la esperienza per me di fare un progetto qui è chiaro che è un privilegio immesso e devo dire che la scuola di Mendrisio un po' è responsabile perché la persona che mi invitò per fare il progetto che abbiamo qui è un ingegniero calcolista di struttura lui è suo fratello e lui Andrea Pedrazzini era professore qui con Mutoni in 2005 assistente di Mutoni e io dovevo andare a Inglaterra in decembre di 2005 e quando ho ricevuto una chiamata di Andrea invitandomi per andare qui a Mendrisio però non abbiamo riuscito però è la prima volta che abbiamo parlato e non abbiamo riuscito perché era dicembre per trovare un aereo e avevo pochissimo tempo e dopo un anno forse Andrea è andato a San Paolo e è venito al mio ufficio e quindi ho scoperto però che la sua moglie era brasiliana che parlava portoguese perché è stata una coincidenza molto grande che quando andavo a São Paolo dovevo fare un progetto di una casa in più della struttura e quindi forse le prime cose che per me è stato, non aveva più sentito, ascoltato, ponte termica. Quindi la conversazione con Andrea è stata molto interessante perché c'era questo tema che per me era completamente nuovo e io ho affrontato la scelta di un modo molto divertente in quel progetto che mi è stato costruito perché c'era una trave, la coperta in acciaio e una colonna in acciaio che viva all'interno e Andrea però... la condensa, c'è la condensa, era 30 metri la lieve della casa, quindi la condensa come si fa? Sembrava molto complicato e per fare 30 metri di luce, va bene. Abbiamo tolto tutte le colonne all'interno e soltanto quella e la punta. Dopo io volevo fare la soletta all'interno, seguire a fuori e... però come si fa la ponte termica? Io potevo fare un taglio davvero, era un taglio di 10 centimetri, non c'era più ponte termica e quindi ho fatto tutto così, in un modo molto... se ho fatto... e dopo abbiamo fatto un concorso e Andrea alcuni anni dopo c'era questo progetto per fare, lui parlava già con un architetto qui a Lugano, da Lugano, da Lugano Nicola Bassega, che è un architetto incredibile e abbiamo fatto un gruppo. Io ho fatto una proposizione di disegno però io non potevo mai fare questo progetto senza Nicola, senza Andrea, senza... Devo dire che in tutti i progetti che ho fatto, questo qui è lo più, quello che io ho trovato, un gruppo di persone più solidari che ho mai visto. Un cimino soltanto per fare la mia vita più facile, capisce, per dare soluzioni, per un modo che mi piace molto. Quindi tutto questo tema che per me è un po' difficile, è anche molto interessante e molto. Non aveva mai senti, però è cosa che mi piace molto, la ventilazione è controllata. Sono come la geosonga, sono così. Io volevo avere possibilità come questa in Brasile, però non è così difficile, è anche molto interessante, perché io credo, interessante è molto utile. Perché non è solo così, non è fare il progetto. Per me, ogni progetto è una possibilità di parlare. Io ho in la comuna dove sono nato la possibilità di fare i primi progetti che ho avuto per fare. È evidente che io non potevo immaginare da fare un progetto qui, però quando dopo posso fare un progetto a San Paolo, in un'altra parte, è sempre una possibilità di controllare la validità di quello pensiero che fa per un punto. Quindi questo per me è molto importante, molto interessante. Direi di chiudere qua. Grazie.